Senatore Stefano Candiani ha presentato una mozione per quanto riguarda il gioco d'azzardo nella quale che cosa chiede al Governo? Il gruppo della Lega Nord ha presentato questa mozione per chiedere al Parlamento di impegnarsi, in questo caso la vuole Senato, di impegnare il Senato e quindi il Governo affinché ci sia una moratoria complessiva sul gioco d'azzardo. Nei nostri Paesi abbiamo visto una diffusione negli anni veramente esagerata di macchinette, slot machine e ogni altro meccanismo utile a far incassare allo Stato facilmente dei denari. Questo però sta portando le famiglie alla rovina, sta portando disagio sociale e certamente non è più tollerabile e comprensibile come lo Stato possa incassare questi soldi senza porsi anche una questione etica da una parte e anche un problema che è quello generato poi dalla ludopatia o se vogliamo chiamarli in maniera più corretta dalla zardopatia. In questo caso persone che continuano in modo compulsivo a utilizzare il gioco d'azzardo cercando di avere fortuna. Questa fortuna non arriva, invece arriva la sciagura di perdere tutti i soldi e ritrovare la famiglia sull'astrico con un grave danno anche per il servizio sociale che poi deve farsi carico di questi costi. Noi chiediamo una moratoria quindi che venga bloccata la diffusione di queste macchinette e certamente chiediamo anche che venga ripresa la situazione. È assolutamente incomprensibile come il governo possa pensare di finanziare un decreto come quello dell'IVA incassando i proventi addirittura di un contenzioso con i gestori del gioco d'azzardo e riducendo un contenzioso che ammonta la cifra originaria a 98 miliardi a 600 milioni di euro e addirittura su questo facendo un ulteriore sconto perché chiaramente non si fermeranno lì. Noi diciamo che tutto ciò non è possibile perché non si può contare su questo tipo di entrate per risanare le casse dello Stato. Perché vuol dire risanare, se mai si risaneranno, i conti pubblici mandando in rovina le famiglie. Grazie.